Mi ricordo perfettamente che eravamo soltanto felici. Io e la Gianni ci siamo conosciuti quando io sono arrivato dalla Calabria in terza elementare. Lei mi ha infilato un bigliettino nella giacca che ho scritto vuoi essere il mio amoroso con i due quadratini sì no e ho barrato sì. Quindi lei è stata la mia prima ragazza, il mio primo bacio. Sembra quasi una storia inventata, per la verità. E questa è la chiesa dove ci siamo sposati. Lontano 1997. Era immersa nel verde e ci sembrava veramente un piccolo paradiso. Eh, qui può scattare l'emozione. Eh sì, ritorno a qualche ricordo. Appettamente eravamo schierati. Italiani e meridionali. Vabbè, andiamo a casa. Che torno a lasciarlo e sicuramente avrà bisogno di me per i compiti. È sì. Grazie a tutti